Io e l'ombra mia Dal Fummatia Pascal, capitolo 15 Mi è avvenuto più volte, svegliandomi nel cuor della notte, la notte in questo caso non dimostra veramente ad avere cuore, mi è avvenuto di provare al buio, nel silenzio, una strana meraviglia, uno strano impaccio, al ricordo di qualche cosa fatta durante il giorno, alla luce, senza badarci, e ho domandato allora a me stesso se, a determinar le nostre azioni, non concorrano anche i colori, la vista delle cose circostanti, il vario frastuono della vita. Ma sì, senza dubbio, e chissà quant'altre cose. Non viviamo noi, secondo il signor Anselmo, in relazione con l'universo. Ora sta a vedere quante sciocchezze questo maledetto universo ci fa commettere, di cui poi chiamiamo responsabile da misera coscienza nostra, tirata da forze esterne, abbagliate da una luce che è fuori di lei. E all'incontro, quante deliberazioni prese, quanti disegni architettati, quanti espedienti macchinati durante la notte, non appaiono poi vani, e non crollano, e non sfumano alla luce del giorno. Come altro è il giorno, altro la notte, così forse una cosa siamo noi di giorno, altre di notte. Miserabilissima cosa, ahimè, così di notte come di giorno. So che, aprendo dopo quaranta giorni le finestre della mia camera, io non provai alcuna gioia nel rivedere la luce. Il ricordo di ciò che avevo fatto in quei giorni, al buio, me la fu scorribilmente. Tutte le ragioni e le scuse e le persuasioni che in quel buio avevano avuto il loro peso e il loro valore, non ne ebbero più alcuno. Appena spalancate le finestre, o ne ebbero un altro, al tutto opposto. E invano quel povero me che per tanto tempo se n'era stato con le finestre chiuse e aveva fatto di tutto per alleviarsi la noia smaniosa della prigionia, ora, timido come un cane bastonato, andava presso a quell'altro me, che aveva aperte le finestre e si destava alla luce del giorno, acciliato, severo, impetuoso. In vano cercava di stornarlo dai foschi pensieri, inducendola a compiacersi piuttosto dinanzi allo specchio del buon esito dell'operazione e della barba ricresciuta e anche del pallore che in qualche modo mi incentiva l'aspetto. «Imbecille, che hai fatto? Che hai fatto? Che avevo fatto? Niente, siamo giusti. Avevo fatto all'amore. Al buio, era colpa mia. Non avevo veduto più ostacoli e avevo perduto il ritegno che mi ero imposto. Papiano voleva togliermi Adriana. La signora caporale me l'aveva data, me l'aveva fatta sedere accanto e si era buscato un pugno sulla bocca, poverina. Io soffrivo e naturalmente per quelle sofferenze credevo come ogni altro sciagurato, legge uomo, di aver diritto a un compenso e poiché l'avevo allato, me l'ero preso. Lì si facevano gli esperimenti della morte e Adriana accanto a me era la vita, la vita che aspetta un bacio per schiudersi alla gioia. Ora Manuel Bernaldez aveva baciato al buio la sua pepita e allora anch'io. Mi buttai sulla poltrona con le mani sulla faccia. Mi sentivo fremere le labbra al ricordo di quel bacio. Adriana, Adriana! Che speranze le avevo acceso in cuore con quel bacio. Mia sposa, è vero? Aperte le finestre. Festa per tutti. Rimasi non so per quanto tempo di su quella poltrona a pensare. Ora con gli occhi sbarrati, ora restringendomi tutto in me rabbiosamente come per schermirmi da un fitto spasimo interno. Vedevo finalmente, vedevo in tutta la sua crudezza, la frode della mia illusione. Che cos'era in fondo ciò che m'era sembrata la più grande delle fortune nella prima ebbrezza della mia liberazione? Avevo già sperimentato come la mia libertà, che a principio m'era parsa senza limiti, ne avesse purtroppo nella scarsezza del mio denaro. Poi m'ero anche accorto che essa più propriamente avrebbe potuto chiamarsi solitudine e noia e che mi condannava a una terribile pena. Quella della compagnia di me stesso. Mi ero allora accostato agli altri, ma il proponimento di guardarmi bene da riallacciare fosse anche debolissimamente le fila recise. A che era valso? Ecco, s'erano riallacciate da sé quelle fila e la vita, per quanto io già in guardia mi fossi opposto, la vita mi aveva trascinato con la sua foga irresistibile. La vita che non era più per me. Ora mi accendevo veramente, ora che non potevo più con vani pretesti, con infingimenti quasi puoi rili, con pietose, meschinissime scuse, impedirmi di assumer coscienza del mio sentimento per Adriana, attenuare il valore delle mie intenzioni, delle mie parole, dei miei atti. Troppe cose, senza parlare, le avevo detto, stringendole la mano, inducendola a intrecciare con le mie le sue dita. E un bacio. Un bacio, infine, aveva suggellato il nostro amore. Ora, come rispondere coi fatti alla promessa? Potevo far mia, Adriana. Ma nella gore del molino, là, alla stia, ci avevano buttato me, quelle due buone donne, Romilda e la vedova pescatore. Non ci sarebbero mica buttate loro. E libera dunque era rimasta lei, mia moglie, non io, che mi ero acconciato a fare il morto, lusingandomi di poter diventare un altro uomo, vivere un'altra vita. Un altro uomo, sì, ma a patto di non far nulla. E che uomo, dunque? Un'ombra, d'uomo. E che vita? Finché mi ero contentato di star chiuso in me e di veder vivere gli altri, sì, avevo potuto, bene o male, salvar l'illusione che io stessi vivendo un'altra vita. Ma ora che a questa mi ero accostato, fino a cogliere un bacio da due care labbra, ecco, mi toccava ritirarmene inorridito, come se avessi baciato Adriana con le labbra d'un morto. D'un morto che non poteva rivivere per lei. Labbra mercenarie, sì, avrei potuto baciarne, ma che sapor di vita in quelle labbra. Oh, se Adriana, conoscendo il mio strano caso, lei no, che neanche a pensarci. Lei così pura, così timida. Ma seppur l'amore fosse stato in lei più forte di tutto, più forte d'ogni riguardo sociale. Oh, povera Adriana, e come avrei potuto io chiuderla con me nel vuoto della mia sorte, farla compagna ad un uomo che non poteva in alcun modo dichiararsi e provarsi vivo. Che fare? Che fare? Due colpi d'uscio mi fecer balzar dalla poltrona. Era lei, Adriana. Per quanto con uno sforzo violento cercassi di arrestare in me il tumulto dei sentimenti, non potei impedire che non le apparissi almeno turbato. Turbata era anche lei, ma dal pudore, che non le consentiva di mostrarsi lieta, come avrebbe voluto, di rivedermi finalmente guarito, alla luce e contento. No? Perché no? Alzò appena gli occhi a guardarmi. Arrossì, mi forse una busta. Ecco, per lei. Una lettera? Non credo. Sarà la nota del dottor Ambrosini. Il servo vuol sapere se c'è risposta. E tremava la voce, sorrise. Subito, dissi io. Ma un'improvvisia tenerezza mi prese, comprendendo che lei era venuta con la scusa di quella nota, per avere da me una parola che la raffermasse nelle sue speranze. Un'angosciosa, profonda pietà mi vinse. Pietà di lei e di me. Pietà crudele, che mi spingeva irresistibilmente a carezzarla, a carezzare in lei il mio dolore, il quale soltanto in lei, che pur ne era la causa, poteva trovare conforto. E pur sapendo che mi sarei compromesso ancora più, non seppi resistere. Le porse ambo le mani. Bella fiduciosa, ma col volto in fiamme, alzò pian piano le sue e le pose sulle mie. Mi attirai allora la sua testolina bionda sul petto e le passai una mano sui capelli. povera Adriana. Perché? Mi domandò sotto la carezza. Non siamo contenti? Sì. E allora perché povera? Ebbe in quel momento un impieto di ribellione. Fui tentato di svelarle tutto, di risponderle. Perché? Senti, io ti amo e non posso, non debbo amarti. Se tu vuoi però. No. Madalli. Che poteva volere? Quella mite creatura. Mi premetti forte sul petto la sua testina e sentii che sarei stato molto più crudele se dalla gioia suprema a cui il ignara si sentiva in quel punto innalzata dall'amore io l'avessi fatta precipitare nell'abisso della disperazione che era in me. Perché? Dissi lasciandola. Perché so tante cose per cui lei non può essere contenta. Ebbe come uno sbarrimento penosissimo nel vedersi così d'un tratto sciolta dalle mie braccia. Si aspettava forse dopo quelle carezze che io le dessi del tu? Mi guardò e notando la mia agitazione domandò esitante. Cosa? Che sa lei? Per sé? O qui? Di casa mia? E risposi col gesto. Qui, qui, per togliermi la tentazione che di punto in punto mi vinceva. Di parlare, di aprirmi con lei. L'avessi fatto. Ragionandole subito quell'unico forte dolore e ne avrei risparmiato altri. Io non mi sarai cacciato in nuovi e più asperi garbugli. Ma troppo recente era allora la mia triste scoperta. Avevo ancora bisogno di approfondirla bene. E l'amore e la pietà mi toglievano il coraggio di infrangere così, d'un tratto, le speranze di lei e la mia vita stessa. Cioè quell'ombra d'illusione che di essa, finché tacevo, poteva ancora restarmi. Sentivo poi quanto odiosa sarebbe stata la dichiarazione che avrei dovuto farle, perché io, cioè, avevo moglie ancora. Sì, sì, svelandole che non ero Adriano Meis. Io tornavo ad essere Mattia Pascal, morto e ancora ammogliato. Come si possono dire si fatte cose? Era il colmo, questo, della persecuzione che una moglie possa esercitare sul proprio marito. Riberarsene lei, riconoscendolo morto nel cadavere di un povero annegato. E pesare ancora, dopo la morte, su lui, addosso a lui, così. Io avrei potuto ribellarmi, è vero, dichiararmi vivo allora. Ma chi al posto mio non si sarebbe regolato come me? Tutti, tutti come me, in quel punto nei panni miei avrebbero stimato certo una fortuna potersi liberare, in un modo così inatteso, insperato, insperabile, della moglie, della suocera, dei debiti, di un'egra e misera esistenza come quella mia. Potevo mai pensare allora che neanche morto mi sarei liberato della moglie. Lei sì, di me, e io no, di lei. Che la vita che m'ero veduta d'innanzi, libera, 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 non fosse in fondo che una illusione, la quale non poteva ridursi in realtà, se non superficialissimamente, e più schiava che mai, schiava delle finzioni, delle menzogne che con tanto disgusto m'ero veduto costretto ad usare, schiava del timore d'essere scoperto, pur senza avere commesso alcun delitto. Adriana riconobbe che non aveva in casa veramente di che esser contenta, ma ora, e con gli occhi e con un mesto sorriso, mi domandò se mai per me potesse rappresentare un ostacolo, ciò che per lei era cagione di dolore. No, è vero? Chiedeva quello sguardo e quel mesto sorriso. Oh, ma paghiamo al dottor Ambrosini, esclamai, fingendo di ricordarmi improvvisamente della nota e del servo che attendeva di là. Lacerai la busta e senza por tempo in mezzo, sforzandomi ad assumere un tono scherzoso. — 600 lire, dissi. — Guardi un po', Adriana. La natura fa delle sue solite stramberie. Per tanti anni mi condanna a portare un occhio, diciamo così, disobbediente. Io soffro dolori e prigionia per correggere lo sbaglio di lei, e ora, per giunta, mi tocca pagare. Ne sembra giusto? Adriana sorrise con pena. — Forse, disse, il dottor Ambrosini non sarebbe contento se lei gli rispondesse di rivolgersi alla natura per il pagamento. Credo che si aspetti anche ad essere ringraziato, perché l'occhio le par che stia bene. E la si sforzò a guardarmi, e disse piano, riabbassando subito gli occhi. — Sì, pare un altro. — Io o l'occhio? — Lei. — Forse con questa barbaccia. — No, perché? — E sta bene. — Me lo sarei cavato con un dito, quell'occhio, che mi importava più di averlo a posto. Eppure, dissi, forse esso, per conto suo, era più contento prima. Ora mi dà un certo fastidio. Basta, passerà. Mi recai allo stipetto a muro in cui tenevo il denaro. Allora Adriana accennò di volersene andare. Io, stupito, la trattenni. Ma, già, come potevo prevedere? In tutti gli impici miei, grandi e piccini, sono stato, come se visto, soccorso sempre dalla fortuna. Ora, ecco comessa. Anche questa volta mi venne in aiuto. Facendo per aprire lo stipetto, notai che la chiave non girava entro la serratura. Spinsi appena appena e, subito, lo sportellino cedette. Era aperto. — Come? — esclamai. — Possibile che io l'abbia lasciata così? Notando il mio improvviso turbamento, Adriana era diventata pallidissima. La guardai e... — Ma qui, guardi, signorina, qui qualcuno ha dovuto metter le mani. C'era dentro lo stipetto un gran disordine. I miei biglietti di banca erano stati tratti dalla busta di cuoio in cui li tenevo custoditi ed erano lì, sul palchetto, sparpagliati. Adriana si nascose il volto con le mani, inorridita. Io raccolsi febbrilmente quei biglietti e mi diedi a contarli. — Possibile! — esclamai dopo aver contato, passandomi le mani tremanti sulla fronte ghiaccia di sudore. Adriana fu per mancare, ma si sorresse a un tavolinetto lì presso e domandò con una voce che non mi parve più la sua. — Hanno rubato? — Aspetti, aspetti. — Com'è possibile? — disse io. E mi rimisi a contare, sforzando rabbiosamente le dita e la carta, come se a furia di stropicciare potessero da quei biglietti venire fuori gli altri che mancavano. — Quanto? — mi domandò ella, contraffatta dall'orrore, dal ribrezzo, appena ebbi finito di contare. — Dodici. — Dodici mila lire, belbettai. Erano sessantacinque, sono cinquantatré. Conti lei. Se non avessi fatto tempo a sorrezzerla, la povera Adriana sarebbe caduta per terra, come sotto una mazzata. Tuttavia, con uno sforzo supremo, ella poteria verse ancora una volta e, singhiozzando, convulsa, cercò di sciogliersi da me, che volevo adagiarla sulla poltrona, e fece per spingersi verso l'uscio. — Chiamo il babbo, chiamo il babbo. — No, le gridai, trattenendole e costringendola a sedere. — Non si agiti così, per carità. — Lei mi fa più male. Io non voglio, non voglio. — Che c'entra lei? — Per carità, si calmi. — Mi lasci prima accertare, perché, sì, lo stipetto era aperto, ma io non posso, non voglio credere ancora a un furto così ingente. Stia buona, via. E da capo, per un ultimo scrupolo, tornai a contare i biglietti, pur sapendo di certo che tutto il mio denaro stava lì, in quello stipetto. Mi dia di rovistare dappertutto, anche dove non c'era alcun modo possibile che io avessi lasciato una tal somma, tranne che non fossi stato colto da un momento di pazzia. E per indurmi a quella ricerca che mi appariva a mano a mano sempre più sciocca e vana, mi sforzavo di credere in verosimile l'audacia del ladro. Ma Adriana quasi farneticando, con le mani sul volto, con la voce rotta dai singhiozzi. — È inutile, è inutile! — gemmeva. — Ladro, ladro, anche ladro! Tutto congegnato avanti. Ho sentito nel buio, menato il sospetto, ma non volle credere che gli potesse arrivare fino a tanto! — Papiano, sì! Il ladro non poteva essere altri che lui, lui per mezzo del fratello durante quelle sedute spiritiche. — Ma come mai? — gemette l'angosciata. — Come mai teneva lei tanto denaro, così, in casa? Mi voltai a guardarla in ebetito. — Che risponderle? Potevo dirle che per forza, nella condizione mia, dovevo tener con me il denaro? Potevo dirle che mi era interdetto di investirlo in qualche modo, affidarlo a qualcuno, che non avrei potuto neanche lasciarlo in deposito in qualche banca, giacché, se poi per caso fosse sorta qualche difficoltà non improbabile per ritirarlo, non avrei più avuto modo di far riconoscere il mio diritto su esso. E, per non apparire stupito, fui crudele. — Potevo mai supporre, dissi. Adriana si coprì di nuovo il volto con le mani, gemendo straziata. Dio, Dio, Dio! Lo sgomento che avrebbe dovuto assalire il ladro nel commettere il furto invase me, invece, al pensiero di ciò che sarebbe avvenuto. Papiano non poteva certo supporre che io incolpassi di quel furto il pittore spagnuolo o il signor Anselmo, la signorina caporale o la serva di casa o lo spirito di Marx. Doveva essere certo che avrei incolpato lui, lui e il fratello. Eppure, ecco, ci sarà messo quasi sfidandomi. E io? Che potevo fare io? Denunziarlo? E come? Ma niente, niente, niente! Io non potevo far niente! Ancora una volta niente! Mi sentì atterrato, annichilito. Era la seconda scoperta in quel giorno. Conoscevo il ladro e non potevo denunziarlo. Che diritto avevo io alla protezione della legge? Io ero fuori ogni legge! Chi ero io? Nessuno! Non esistevo io per la legge! E chiunque ormai poteva rubarmi, e io zitto! Ma tutto questo Papiano non poteva saperlo. E dunque? Come ha potuto farlo? Dissi quasi tra me. Da che gli è potuto venire tanto a dire? Adriana levò il volto delle mani e mi guardò stupita, come per dire... E non lo sai? Ah, già, feci, comprendendo a un tratto. Ma lei lo denunzierà, esclamò illa, levandosi in piedi. Mi lasci, la prego, mi lasci chiamare il babbo. Lo denunzierà subito! Feci in tempo a trattenerla ancora una volta. Non ci mancava altro che ora, per giunta, Adriana mi costringesse a denunziare il furto. Non bastava che mi avessero rubato come niente dodici mila lire. Dovevo anche temere che il furto si conoscesse. Pregare, scongiurare Adriana che non lo gridasse forte, che non lo dicesse a nessuno, per carità! Ma che, Adriana, e ora lo intendo bene, non poteva assolutamente permettere che io tacessi e obbligassi anche lei al silenzio. Non poteva in vero modo accettare quella che pareva una mia generosità, per tante ragioni. Prima per il suo amore, poi per l'onorabilità della sua casa e anche per me e per l'odio che la portava al cognato. Ma in quel frangente la sua giusta ribellione mi parve proprio di più. Esasperato le gridai. Lei si starà zitta. Glielo impongo. Non dirà nulla a nessuno, ha capito? Vuole uno scandalo? No, no, si affrettò a protestare piangendo la povera Adriana. Voglio liberare la mia casa dall'ignominia di quell'uomo. Ma egli negherà, incalzai io. E allora lei? Tutti di casa innanzi al giudice. Non capisce? Sì, benissimo, rispose Adriana con fuoco, tutta vibrante di sdegno. Neghi, neghi pure. Ma noi, per conto nostro, abbiamo altro, creda, da dire contro di lui. Lei lo denunzi. Non abbia riguardo. Non tema per noi. Ti farà un bene, creda, un gran bene. Vendicherà la povera sorella mia. Dovrebbe intenderlo, signor Mace, che mi offenderebbe se non lo facesse. Io voglio, voglio che lei lo denunzi. Se non lo fa lei, lo farò io. Come vuole che io rimanga con mio padre sotto quest'onta? No, no, no. E poi... Me le astrinsi fra le braccia. Non pensai più al denaro rubato, vedendola soffrire così smaniare, disperata. E le promisi che avrei fatto come la voleva, purché si calmasse. No, che unta! Non c'era alcuna unta per lei, né per il suo babbo. Io sapevo su chi ricadeva la colpa di quel furto. Papiano aveva stimato che il mio amore per lei valesse bene dodicimila lire, e io dovevo dimostrargli di no, denunziarlo. Ebbene sì, avrei fatto. Non per me, ma per liberare la casa di lei da quel miserabile. Sì, ma un patto. Che ella prima di tutto si calmasse, non piangesse più così, via via. E poi? Che mi giurasse su quel che aveva di più caro al mondo, che non avrebbe parlato a nessuno, a nessuno di quel furto, se prima io non consultavo un avvocato per tutte le conseguenze che, in tanta sovraeccitazione, né io né lei potevamo prevedere. Me lo giura? Su ciò che ha di più caro? Me lo giurò. Con uno sguardo, tra le lacrime, mi fece intendere su che cosa me lo giurava, che cosa avesse di più caro. Povera Adriana.